Cari spettatori, amici del Variettè, calorissimo pubblico, Buonasera qui a Stellamato, nella prima parte del programma venuto direttamente del Cairo la famosissima Molita del Sudan di una danzatrice del vento, Acompañato, come sempre, della nostra orquestra Paolo Silvestre, prego maestro, a lei. Acompañato, come sempre, della nostra orquestra Paolo Silvestre. Sono otto, sono otto di Catania, sono arrivato a Roma venti anni fa, sono qui per vivere, Per vivere la mia vita, per mangiare, per rosso, buco e rivivino. Ma tutti questo giorno, voglio inventare tutti gli amici in me, per celebrare la mia vita. Amici grazie, grazie per venire, grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la Sirena. Grazie per venire, è il mio nome otto di Catania, sono arrivato venti anni fa. Grazie per venire, gente geçeri, a sciss Variare. Grazie.